Ciao da Absim, Chiesa si fa intervistare, lunga intervista a Tutto Sport, dice tante cose, poi ieri c'è stato anche l'incontro il 4 ottobre di questo club bianconero del Parlamento, Juventus Club del Parlamento, ci sono andati Calvo che ha parlato più che altro della strategia difensiva con il patteggiamento, ma anche il presidente Ferrero l'hanno scongelato e naturalmente Giuntoli, Ferrero pare abbia detto la Juventus tornerà, la Juventus, Giuntoli pare abbia detto che sarà vigile la società sul mercato, in particolare a gennaio. Tra l'altro bisogna adesso vedere come andrà con Pogba, ma lo sapremo in questi prossimi giorni, quindi poi naturalmente ne parleremo. Interessante, interessante che il presidente Ferrero dica chiaramente che questa non è la Juventus, evidentemente facciamo bene a chiamarla alle Grentus, perché se lo dice lui per primo che la Juventus tornerà alla Juventus, vuol dire logicamente che in questo momento la Juventus non è la Juventus. Cosa si intenda poi per essere la Juventus e cosa si intenda fare per farla tornare a Juventus, in questo momento non è dato sapere. Poi appunto Giuntoli saremo vigili sul mercato, se vogliamo, legati anche alla giornata di ieri, a questo 4 ottobre, ci sarebbe anche l'allenamento, legati come eventi legati a questa giornata, ci sarebbero anche più che altro le valutazioni, le indiscrezioni, le ricostruzioni che sono venute fuori sull'allenamento aperto ai tifosi, ai giornalisti, alla continassa. Sembra che sia venuto fuori che Magnanelli, guardate un po', Magnanelli, sia quello che si interessa particolarmente di curare le esercitazioni dedicate al pressing, con grande dedizione, applicazione e intensità. Quindi pare che era vero, pare che l'hanno visto, ho visto tutto, pare che l'hanno visto, che Magnanelli è quello che cura il pressing. Quindi, quando si parla di un Allegrentus che fa un calcio diverso, che gioca in maniera diversa, si dovrebbe parlare di quello che di diverso fa, offre, costruisce Magnanelli, Francesco Magnanelli, si dovrebbe dire. Se invece si vede una Juve, un Allegrentus, che non fa niente di diverso, siccome Magnanelli si sta dedicando a questa squadra un po' più propositiva, e quindi ad andare a fare il pressing, è chiaro che se poi in campo non si vede, non si sta facendo quello su cui ha lavorato Magnanelli. Cioè, non è che Magnanelli sta lavorando su un pressing qualunque, pressing basso, stare rintanati dietro, ma essere un po' più aggressivi. No, starebbe lavorando su una squadra che va alta a riaggredire. Quindi, se la squadra va alta a riaggredire, è perché ci ha lavorato Magnanelli. Se la squadra non va alta a riaggredire, è perché nonostante ci abbia lavorato Magnanelli, non lo stanno facendo. E perché non lo stanno facendo? Poi, al di là del fatto che sono caduti in grossa contraddizione, in imbarazzante contraddizione, i difensori di Allegri che hanno detto Eh, ma allora quando si vince si gioca bene in merito di Magnanelli, quando si perde si gioca male, è colpa di Allegri. No, ma vogliamo tornare a parlare di Atalanta Allegrentus, lì di chi è merito o colpa? Cioè, di chi è la responsabilità? Perché si è vista una prestazione oscena, si è vista una prestazione oscena, una prestazione di non calcio, non era neanche anticalcio, era non calcio. E allora, visto che l'allenatore è Allegri e non è Magnanelli, dicano lor signori di chi è eventualmente la responsabilità. Quindi abbiamo questi temi, abbiamo poi questa fiducia confermata ad Allegri, di cui dobbiamo appunto parlare, e c'è poi l'intervista di Chiesa. Cerchiamo di mettere un po' tutto insieme, per cercare di capire la situazione in dirigenza e nello spogliatoio. Dunque, commentiamo un po' le parole di Chiesa. Chiesa che cosa ha detto? Non ho un cattivo rapporto con Allegri, non è vero che non ci vado d'accordo, io vado d'accordo con tutti. Cosa doveva dire Chiesa a Tutto Sport? Sì, ci ho litigato? Allora, è chiaro che questa frase non ha nessuna importanza, anche se come lo dice può avere un'importanza, perché dire io vado d'accordo con tutti è una risposta un po' generica della serie, vado d'accordo persino con Allegri. E poi non è vero che nessuno va d'accordo con tutti, nessuno va d'accordo con tutti, o perché dall'altra parte si prova astio, fastidio, disistima, o perché da questa parte c'è incapacità di sopportare qualcun altro. Cioè, uno può anche fare lo sforzo di sopportare tutti, e già è difficilissimo, però magari non viene sopportato da qualcuno. Quindi, o voleva dire non dipende da me, io personalmente vado d'accordo con tutti, e quindi se c'è un problema non dipende da me, o voleva dire, io vado d'accordo con tutti, quindi di conseguenza persino con Allegri, ma insomma, una risposta generica, ma noi dobbiamo trarre da altre affermazioni e da altri fatti concludenti qual è eventualmente il rapporto tra Chiesa e Allegri, non certo da queste dichiarazioni che non possono che essere di facciata, è normale, cioè, cosa doveva dire. Poi ha detto una serie di cose che sarebbero allineate con Allegri, dobbiamo fare calcio moderno tenendo sempre il pallone, cercando di essere il più propositivi possibile con la palla tra i piedi, però bisogna capire anche le situazioni, c'è partita e partita, contro il Sassuolo ci siamo disuniti, quindi alla fine andare anche a sostenere quella logica illogica di dover speculare, di dover capire i momenti della partita, di dover puntare al pareggio per evitare di perdere. Poi anche sulla penalizzazione dell'anno scorso, a Empoli ci hanno detto prima della partita che ci avevano tolti i punti ed è stata una mazzata, ma che c'entra? Ma che c'entra? Perché poi dice, anzi, avendo archiviato tutta questa storia delle penalizzazioni, che è stata avvilente perché vedi bruciare praticamente il frutto dei tuoi sforzi, quest'anno abbiamo desiderio di rivalsa e quindi potevate tirare fuori il desiderio di rivalsa anche a Empoli. Non è che era obbligatorio perdere 4-1, tra l'altro, 4-1 perché ti avevano tolto i punti. Di cosa parliamo? Mi sembra veramente una cosa senza senso. Poi dice, i leader sono soprattutto Danilo, che è il più saggio, figuriamoci, cioè uno che ha detto che Allegri vale Pep, che Allegri vale Guardiola, sarebbe il più saggio. Pensa come stanno messi gli altri. Poi ci sono, per esempio, anche Rabiot, che dà comunque molti consigli, ho un ottimo rapporto con Dusan fin dalla Fiorentina. guardo le partite di Champions, è rosico perché ci dovevamo essere noi, ci hanno tolto l'Europa due volte, una prima volta abbassandoci alla Conference e una seconda volta togliendoci pure la Conference. Il Milan sta in Champions, immeritatamente, perché aveva fatto quinto, quel posto era nostro. Non si indignino i milanisti però, onestamente, non si indignino i milanisti perché ci ha ragione, cioè questo è vero, sul campo l'Allegrentus ha fatto terzo posto, anche per merito o colpa di Chiesa, perché per me doveva fare quinto posto ed c'è stato un gol di differenza, uno, proprio quello di Chiesa a Udine, però, quindi c'entra direttamente lui, però questo è. Poi, di certo non sono io quello che sostiene che la sanzione all'Allegrentus è stata ingiusta, sapete benissimo come la penso, anzi, c'è stata una sostanziale impunità sul secondo filone che doveva prevedere non tanto punti di penalizzazione ma decine di milioni di euro di ammenda. E su questo pure Calvo è stato abbastanza esplicito, l'ha detto, abbiamo chiuso tutto risparmiando un bel po', cioè risparmiando un bel po' di quella che doveva essere la sanzione. Però, oggettivamente, il Milan è in Champions grazie alla penalizzazione all'Allegrentus. Questo non ci piove, non si offendano i milanisti, purtroppo questo è un dato di fatto. Poi, naturalmente, in quel momento lì, quando è finito il campionato, considerando che poi il Milan ha anche battuto l'Allegrentus sul finale della stagione dopo la penalizzazione, la penalizzazione era già in essere. Quindi, in realtà, la classifica diceva già che il Milan era terzo. Non è che è stata una decisione successiva. Infatti, Chiesa, pure lui, dice sarebbe stato meglio se la decisione fosse arrivata tutta quanta direttamente alla fine, invece di questo metti punti, togli punti, eccetera. Quindi, una serie di cose, alcuni aspetti su cui Chiesa, secondo me, ha ragione, ragiona in maniera intelligente. Poi ha parlato anche dell'Europeo, ha parlato della Nazionale, ha detto che io sono a Torino proprio perché amo stare sotto pressione, adesso in avvicinamento al derby, cose che ci interessano. Giocare un pochino più in attacco, magari dall'esterno, sembra che io abbia problemi di adattamento, in realtà sto benissimo, sto benone anche a livello di recupero, non voglio neanche più sentire parlare di recupero perché ormai sono guarito, sto benissimo, sto cercando di fare il massimo, come mi chiede il mister, a livello di posizione. Poi però, tornando al discorso Magnanelli, a livello di posizione quindi come attaccante, tornando al discorso Magnanelli, Chiesa dice anche che Magnanelli ha sostituito in tutto e per tutto quello che faceva Bianco, però l'anno scorso con Bianco hanno potuto fare poco perché si giocava ogni tre giorni, avendo avuto la certezza che non si sarebbero giocate le coppe, è stata ricalibrata, è stata riorganizzata, è stato riorganizzato tutto il piano di allenamenti annuale con il riempimento quindi delle settimane e ha detto facciamo parecchie sedute video, qui non ha parlato di Magnanelli, anzi, anzi l'ha detto, dice, c'è parecchie sedute video per rivedere quello che abbiamo fatto bene e quello che abbiamo fatto male in partita e in questo sono molto utili Magnanelli e Padoin. Ora, noi sappiamo da Rabiot che Bianco l'anno scorso faceva le sedute video e che lo aveva aiutato, Rabiot, che Bianco aveva aiutato Rabiot moltissimo nel migliorare. Quindi, noi abbiamo un Allegri che arriva a luglio 2021 e manca di rispetto a Sarri e Pirlo dicendo che Rabiot è uno che può fare 10 gol a stagione della serie. Siete due incapaci che non siete riusciti a fargli rifare. Che fa Rabiot nella prima stagione? Zero gol. La seconda stagione segna più di 10 gol, strasegna, di chi è anche merito, anche merito, di Bianco che faceva le sedute video. Che fine ha fatto Bianco? Ne abbiamo parlato. Ci sono ricostruzioni giornalistiche. Bianco è stato emarginato molto presto da Allegri perché non gli andava bene quello che faceva. Ed è stato emarginato anche Andreini, arrivato pure lui nell'estate 2022, che doveva coordinare la gestione atletica, Head of Performance. Lo hanno buttato a Vinovo. si sta occupando solo delle giovanili, sostanzialmente. Ci sono ricostruzioni giornalistiche marginali, di cui io ho parlato. Marginali perché ovviamente queste cose non se ne deve parlare a voce alta perché sono imbarazzanti, non lo si deve dire. Però la situazione sostanzialmente è questa. Oggi Magnanelli dove sta? A fare le sedute video, a curare le fasi di pressing che poi in partita non si fanno. Quindi Chiesa da una parte per me è condivisibile, dall'altra parte è un po' ipocrita perché sa certe cose, le dice e le fa trapelare. Tra l'altro tra i leader ha citato anche Scesni, uno che non parla bene l'italiano e uno che non so se è per prendere in giro Allegri ma dopo l'Atalanta ha detto delle cose e le abbiamo commentate veramente insostenibili. E poi però Chiesa dice anche delle cose che sembrano perfettamente allineate con Allegri. Ora, qual è la situazione di Spogliatoio? Lascio la domanda perché la risposta non ce l'ho. Sappiamo soltanto quello che possiamo venire a conoscere tramite queste dichiarazioni, queste interviste, determinati comportamenti. Di certo, come da immagine che ho messo anche in copertina di questo video, ci sono diciamo dei momenti in cui Allegri e Chiesa anche in campo non sembrano essere così sereni e andare così d'accordo. Dopodiché, per quanto mi riguarda, Chiesa sta facendo la sua carriera, le sue prestazioni per quello che gli piace fare, per quello che vuole fare, per dimostrare quello che vale, per il suo presente e per il suo futuro. Quindi se ne sta fregando altamente di Allegri, le indicazioni in attacco, non in attacco, poi chiaramente fa anche un po' quello che gli viene detto perché i giocatori non possono capire e decidere da soli quello che devono fare. Non fosse altro che per il fatto che serve un coordinamento, cioè se un gruppo squadra vuole ammutinarsi dall'allenatore e giocare in campo in maniera diversa si devono riunire, ci deve essere uno o più leader che dicono che cosa devono fare. Non è che il singolo giocatore disattende le indicazioni dell'allenatore e ottiene qualcosa. No, perché il resto della squadra segue le indicazioni dell'allenatore quindi lui rimane l'unico che va contro e non può funzionare. Per cui è chiaro che da soli si può fare poco, perciò dovrebbero coordinarsi e mettersi d'accordo per ammutinarsi o quantomeno per far capire anche meglio quanti danni ancora oggi sta facendo Allegri a livello tecnico-tattico. Ma, sorvolando, cioè, superati tutti questi argomenti, tutti questi temi che ho cercato di includere tutti assieme, parliamo della posizione di Allegri perché come riporta il bianconero in questa settimana c'è in effetti da parlare del contratto di Allegri. Noi non conosciamo che cosa c'è nel contratto di Allegri, non sappiamo quali clausole ci sono, penali, pagamenti, soldi, sappiamo però che è un contratto quadriennale perché se era detto era 2 più 2 non era 2 più 2 un cavolo perché, o comunque se lo era si è trasformato, cioè il più 2 è scattato quindi siamo nel più 2 di questo più 2 però siamo già nell'uno dei due quindi comunque siamo 3 su 4 e allora il discorso qual è? Il discorso è che non si sta parlando di rinnovo non si sta minimamente parlando di rinnovo di Allegri e meno male direte voi ma anche quando Giuntoli dice si va avanti con Allegri ma con fiducia ma con quale prospettiva? Cioè qual è la prospettiva? Voi avete idea di una prospettiva? Non ce l'ha nessuno Allegri dice che bisogna fare 76 punti quindi 2 punti a partita in media e andare in Champions League fare quarto posto Chiesa pure dice l'obiettivo è il quarto posto poi se a marzo siamo lì magari facciamo qualcosa di più una cosa cioè non c'è un piano capito? Non c'è un piano non c'è un programma Giuntoli ribadisce la stessa roba bisogna fare quarto posto si parla di obiettivi massimi o di desideri più grandi che poi non si quantificano non si specificano e Giuntoli nell'intervista Repubblica di una settimana fa ricorderete ha detto che sarebbe mediocre porre dei limiti temporali al progetto che intendono portare avanti che è una cosa ridicola non ha alcun senso tu se hai un progetto la prima cosa che hai sono le tempistiche perché devi sapere per sapere cosa vuoi fare devi sapere in quanto tempo lo puoi lo devi fare e di conseguenza che strumenti ti servono questo vale per qualunque cosa dal cucinare il pranzo al costruire un edificio devi conoscere i tempi assolutamente perché dai tempi dipende anche la materia prima che puoi avere a disposizione quindi stiamo parlando di un progetto sportivo che non esiste se il progetto sportivo finisce come prima come fase e poi però non si conosce la fase successiva con la qualificazione alla prossima Champions puramente per incassare i ricavi e non si guarda non solo ai risultati ma neanche alle prestazioni o non solo alle prestazioni ma neanche ai risultati di cosa stiamo parlando di nulla di nulla e addirittura giunto dice che sarebbe da mediocre avere un programma un pochino più definito è tutto è tutto inascoltabile inaccettabile insopportabile e ingiustificabile ma se in tutto questo senza guardare alle prestazioni senza avere un obiettivo effettivamente non si parla di rinnovo la prossima stagione che stagione è? è una stagione in cui l'Allegrentus dovrebbe tornare in Champions League con un allenatore in scadenza con il quale non si è deciso nulla e perché Allegri dovrebbe iniziare l'ultima stagione per poi finire addirittura in scadenza è una cosa che non si fa mai nelle grandi squadre non capita mai si va sempre comunque a discutere il rinnovo o a darsi una parola per il momento scrive il Bianconero che fa parte del network di Gazzetta dello Sport non c'è neanche una parola detta data sussurrata su un possibile rinnovo e meno male e meno male ci mancherebbe però questo che cosa vuol dire? vuol dire che le voci portate avanti come scrive come ricorda il Bianconero stesso da amici e conoscenti di Allegri tra cui Ivan Zazzaroni che ha detto a Pressing sarà l'ultimo anno di Allegri sono voci fondate Allegri a giugno lascia cioè fa questa stagione e poi si dimette lo esonerano hanno un accordo quello che volete ma fondamentalmente finisce stagonia e ci liberiamo e ritorna la Juventus e quindi Ferrero ha ragione nel dire tornerà la Juventus nel senso che se ne va Allegri non credo che intendesse quello però questo per dire che cosa allora per dire che forse siamo vicini alla luce forse siamo vicini alla salvezza forse siamo vicini alla liberazione forse ma molto forse ma che ci sono anche iniziano ad esserci degli elementi concreti e non solo e non tanto l'indiscrezione e il chiacchiericcio degli amichetti degli amici dei conoscenti dei ben informati fate come volete ma anche un dato che è un dato è un dato carente cioè è la mancanza di qualcosa ma questa mancanza di qualcosa un patto un accordo per il rinnovo ha una grande concretezza tanto da essere evidente quindi qualcosa di veramente importante se non c'è un accordo per il rinnovo non c'è un'idea di rinnovare il contratto che senso ha andare avanti la prossima stagione a fare la Champions League iniziando veramente un nuovo ciclo altro che un nuovo ciclo quest'anno con lo stesso allenatore non avrebbe senso non comincio adesso a ottobre a dire attenzione Allegri senza andando Allegri out perché è chiaro che fino alla fine della stagione se lo terranno è chiaro anche se poi c'è Balzarini che dice se siamo dodicesimi a dicembre faranno delle valutazioni risultatismo che poi lui dice che non bisogna essere risultatisti e soprattutto senza senso perché il punto è la dodicesima posizione o quello che si fa in campo quindi se io sono terzo come l'Alegrentus è terza quarta quello che sia quello che sarà in queste settimane ma giocando malissimo non giocando proprio peggio del Cagliari peggio del Cagliari con tutto il rispetto ma il Cagliari sta andando veramente molto male a livello di prestazioni che fai va bene perché però è terzo e quarto la solita storia allora il progetto qual è? non c'è quindi tra l'altro nel così dissertare e argomentare di spogliatoi e dirigenza purtroppo noi dobbiamo partire dal presupposto anzi dobbiamo acquisire la consapevolezza che il vero problema oggi non è neanche più Allegri Allegri è il prodotto di un problema più grande che è questa dirigenza e la dirigenza è un problema che è il prodotto di un altro problema ancora più grande che è la proprietà con John Elkart ecco perché dico e ribadisco ex or out ma ex or out non è Elkan out è anche Agnelli out perché ex or è anche Agnelli a livello di proprietà quindi attenzione non è che poi ex or vende e la società se la compra Andrea Agnelli e la società se la compra Andrea Agnelli poi chiunque altro tolto ex or e tolto Andrea Agnelli a me sinceramente andrebbe bene tranne naturalmente gente impresentabile senza far nomi potete immaginare chi ce ne sono tanti purtroppo tolta gente impresentabile chiunque per me va benissimo e dopodiché diventa quasi naturale se cambia la proprietà cambia il paradigma cambia l'identità cambiano le intenzioni arriva una progettualità diventa quasi naturale scontato che Allegri out perché è il prodotto di un problema più grande che è dato dal modo di questa dirigenza di gestire le cose e cito proprio al volo al volo anche se la dirigenza adesso è un'altra ma purtroppo stiamo parlando più o meno dello stesso livello il fatto che Jude Bellingham nel 2020 a 16-17 anni stava per diventare un giocatore della Juventus ma l'avrebbero sbattuto in under 23 la stessa cosa che volevano fare due anni prima un anno prima con Holland quindi non imparano neanche dagli errori fanno cioè questa squadra oggi avrebbe potuto avere o in campo o nel bilancio in campo o nel bilancio Bellingham e Holland cioè o ce li avevi entrambi in campo o li avevi venduti e avevi monetizzato tantissimo poi è chiaro che con Allegri con Allegri ma comunque con questa dirigenza che non supporta Sarri che non supporta Pirlo con i senatori Bellingham non sarebbe stato Bellingham e Holland non sarebbe stato Holland ma comunque tu sei riuscito a trattarli quasi a prenderli e non li hai presi per lo stesso motivo perché li volevi mandare in under 23 e c'è qualcuno in entrambi i casi il Dortmund che ha offerto qualcosa di più che ha offerto qualcosa di meglio e quindi come vedete purtroppo come si dice il pesce puzza dalla testa e la situazione è questa qui quindi per concludere lo spogliatoio come sta secondo me regna una sorta di compromesso di pace compromissoria quindi hanno deciso di non combattere tra di loro di ripianare determinati attriti di evitare di contrastarsi e di avere controversi quindi ci sono degli accordi per fare determinate cose in un certo modo con appunto dei compromessi per quanto riguarda la dirigenza anche qui regna sostanzialmente potrei dire quasi l'Ignavia potrei dire l'Ignavia però sembra che almeno il tempo giochi al nostro favore e possa costringere poi questa dirigenza a prendere delle decisioni definitive importanti perché non possono a un certo punto andare avanti per inerzia quindi arrivati a un certo punto devono decidere se tenere allegri o mandarlo via dopo averlo confermato sia a novembre scorso sia a giugno scorso quindi due volte negli ultimi meno di 12 mesi credo che se andranno a confermarlo addirittura a rinnovargli il contratto non stiamo neanche più parlando di 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 assurdità stiamo parlando di qualcosa di più grave di una distruzione deliberata sostanzialmente ma speriamo di non arrivare a questo speriamo che non accada e intanto mi fermo perché questo è quello che sostanzialmente volevo dire grazie per la vostra attenzione buon dibattito nei commenti anche sul mio server discord dove c'è pure la fantastica chat dedicata all'allegrentus link in descrizione mettete like e condividete il video se vi è piaciuto e iscrivetevi attivate le notifiche per non perdere i prossimi contenuti se no avete ancora fatto abbonatevi a partire da 99 centesimi al mese per tanti vantaggi seguitemi anche sul mio secondo canale youtube avsimout primo link in descrizione dove trovate video brevi sul calcio ci vediamo molto presto e senza compromessi sempre Allegri Out grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti